Sì, allora sostanzialmente diciamo questo, che la crisi idrica la si affronta insieme con la crisi climatica, altrimenti rischiamo di agire per compartimenti stagni senza dare la giusta soluzione. L'anno scorso abbiamo avuto un calo, diciamo abbiamo avuto meno acqua pari al 30% rispetto a quella dell'anno precedente e quest'anno andiamo in una direzione ancora più critica. A parlare così Giuseppe Di Marco, presidente Legambienti Abruzzo, recuperare le acque piovani in città e sfruttare le acque refluene agricoltura, solo due delle soluzioni proposte dall'Associazione Ambientalista nel report in vista del 22 marzo, giornata internazionale dell'acqua. Di Marco ha evidenziato come se non si attuino buone pratiche assieme alla manutenzione di condotte e infrastrutture si giungerà una situazione critica. Notizia di qualche giorno fa riguarda il fucino e la siccità con 180 milioni di euro a rischio secondo stime col diretti. Questo è che cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo mettere in campo delle soluzioni che partono dalle nostre città, quindi ripensare alla gestione delle nostre città. Ma perché questo? Perché dentro le città noi abbiamo i consumi. Allora noi abbiamo circa 9 miliardi di metri cubi di acque refluene che non vengono utilizzate all'agricoltura, vengono utilizzate solo per il 5%. Questo è un altro elemento di criticità perché non ancora viene attuato il regolamento comunitario, noi ovviamente siamo un'inflazione perenne da questo punto di vista. E questo che cosa ci dice? Che unito alla gestione delle acque bianche che avviene nelle città, noi potremmo avere circa 22 miliardi di metri cubi l'anno che si avvicinano a quei 33 miliardi di fabbisogno. Ecco perché oggi è importante incidere laddove c'è il consumo, perché purtroppo il cambiamento climatico si sta portando sempre ad avere meno acqua. Poi che cosa diciamo? Diciamo che l'agricoltura comunque deve cambiare, nel senso che deve mettere in campo quelle pratiche, quelle richiamate all'associazione di biodinamica, che dice di mantenere suoli maggiormente permeabili, di chiudere il ciclo del recupero dell'acqua, a mettere insieme tutte quelle buone pratiche che ci aiutano ad ottimizzare che abbiamo anche una corretta gestione dei suoli. A proposito di agricoltura che rimane la più sofferente, con un approfondimento dalle città e i campi sulle migliori pratiche nazionali e internazionali, c'è la collaborazione con la rete di donne africane Nous sommes la solution, rappresentata da Mamadou Danfaka, agronomo senegalese. Presenti anche l'Associazione per l'agricoltura biodinamica e l'Associazione Daphne, impegnata in Abruzzo, oltre che in altri contesti internazionali, in interventi di potenziamento nell'ambito della promozione e protezione sociale.